Anticipazioni Beautiful, lunedì 9 marzo 2020. Taylor a casa di Steffi si lamenta per la scelta della figlia, fare un piccolo viaggio a Parigi senza Liam. Lei però capisce dove vuole arrivare e lei fa sapere che il ragazzo ha espresso il desiderio di restare al fianco della donna che ha sposato Hope. Madre e figlia iniziano a bisticciare e il pianto di Phoebe a fermarle. Ridge passa a trovare giovane Spencer e il discorso cade inevitabilmente sulla situazione sentimentale della Forrester. Liam precisa che Steffi non si è mai pentita del tradimento perpetrato ai suoi danni con Bill Spencer. Lo stilista le fa capire che è stata manipolata da quell'uomo, ecco perché è finita a letto con lui, ma il ragazzo non concorda. Ridge lo sprona a pensare bene chi vuole nel suo futuro e lui dice che al momento vuole Hope. E in aggiunta a ciò considera sia Kelly che Phoebe i suoi bambini. E non intende farle mancare niente. Katie e Bill si ritrovano insieme a causa di un intrigo di Donna e Justin. Non si scoraggiano e decidono di pranzare ugualmente insieme. Bill ha preso molto il fuori programma, felice di poter condividere qualche pre-rivatezza gastronomica con l'unica donna che è sempre riuscito a renderlo felice. Tom secondo lui l'ha soltanto presa in giro. Inoltre non si è comportato bene nei confronti di Will. La Logan poi si allontana per qualche istante dal tavolo e quando ritorna trova il magnate in lacrime con il cellulare in mano. Justin e Donna ammettono ridendo di aver boicottato le agende di Bill e Katie per farli stare un pochino insieme. Wyatt lo scopre e appoggia il loro gesto. Certo che sarebbe un vero e proprio tocca sana per il piccolo Will rivedere i suoi genitori uniti e innamorati.